E' tornato stamane in consiglio dopo più di 11 mesi di assenza, innanzitutto che sensazioni ha provato? E' giusto un mese che sono libero, quindi non ho provato una grande sensazione. Perché per quanto mi riguarda è come se questo posto non l'avessi mai lasciato, così che continuo a dire di sentirmi un uomo libero, ma soprattutto estraneo alle cose di cui sono accusato. Ma non è tanto un atto di accusa, è stato un grido d'allarme. Per cercare, anche se non sto nel Partito Democratico e sono dispiaciuto di questo, a me piacerebbe molto che la sinistra incominciasse a ragionare in modo diverso sulla questione della giustizia e sulla carcerazione preventiva, che sta diventando sempre di più una condanna preventiva e non un modo di essere, non è più una carcerazione, è cautelare, cautelare di che cosa? Sono stato quasi un anno, con le indagini chiuse, con il rinvio a giudizio, non credo che si possa continuare così. E' del tutto evidente che non lo dico più per me, ma lo dico per quelli che ci possono incappare in una situazione come la mia. Un atto d'accusa anche contro l'ex capogruppo del PD, ex suo collega, sia sul piano personale che politico. Il mio rammarico, la mia delusione che è venuta dai rappresentanti del mio ex partito, è stata maggiore quella del capogruppo. Perché lui ha avuto una brutta esperienza e probabilmente non ha avuto la solidarietà che meritava quando da consigliere comunale di Napoli ha avuto questa esperienza. Questo però non consente, proprio perché lui ha vissuto questa esperienza, di fare dichiarazioni false sul fatto che mi avevano cacciato dal partito del gruppo quando mi ero avuto sospeso già un anno prima del mio arresto, anzi più di un anno prima, quasi un anno e mezzo prima. D'accordo con il mio legale, Umberto del Basso dei Cari, credo che lo sapete, ci eravamo accordati di non fare, di avere un profilo basso e quindi di non avere queste visite dei consiglieri regionali. Questo non significa che non dovevano trovare altri modi per esprimere la loro solidarietà. Però c'è un consigliere regionale, Nicola Caputo, che non ascoltando questo consiglio, una mattina, è stata una visita gradita ovviamente, anche se commovente, me lo sono trovato lì mentre passeggiavo, mi hanno chiamato, aspettavo che mi chiamassero per una visita medica o qualcosa di questo tipo e poi ho trovato Caputo. Voi sapete bene che Sciascia negli anni di Tortola, se così possiamo dire, è intervenuto molto anche alla Camera. La cosa che più mi ha colpito è di stare attento ai pesci piccoli. Siccome io in questa mia pescheria ho alcuni pesci piccoli, questo mi ha colpito molto, anche perché noto, non li conosco neanche, non so neanche chi sono, perché sono dei ragazzi rispetto a me, che faccio politica da anni. Lei ha annunciato un impegno per chi è detenuto, ha invitato anche i suoi colleghi a fare questo, perché? Perché l'esperienza che ho fatto a Secondigliano, seppur diversa come ho cercato di dire, le questioni sono diverse tra Secondigliano e Poggio Reale. Anche se poi all'interno delle carceri sovraffollate o meno c'è un problema che riguarda i giovani detenuti. Questi giovani che continuano in un momento in cui c'è una lotta serrata alla Camorra, fortunatamente di questo siamo grati alla magistratura, quello che resta nella parte metropolitana di Napoli, nella città metropolitana di Napoli, la maggioranza, credo, io sul 50 ne contavo sempre più di 30, stanno lì per spaccio di droga, piccoli pusher, piccoli spacciatori e soprattutto sono dei giovani che, contrariamente ad una volta, sono anche a volte scolarizzati, che se incanalati in un progetto di inserimento sociale, per insegnargli un'attività, un lavoro, un mestiere, io credo faremo due cose utili, elimineremo una parte della criminalità e daremo a questi giovani un'opportunità in più per non tornare a spacciare.